Buonasera, leggiamo il testo relativo alla quinta lezione. Con una prosa che sa essere di volta in volta sapiente, allusiva, ammiccante, Benedetta Craveri ci racconta da anni il suo mondo, animato da spie, libertini, cardinali, mantenute, camerieri, stallieri, prostitute, monache, regine, soldati, cacciatori. Ricercatrice finissima, capace di decifrare il detto e il non detto nascosto entro un diario, non più consultato da secoli, Benedetta Craveri sa poi collocare quella pagina tra le ordinanze di un monarca e le sconfitte di un ammiraglio. Ha preferito il libertinismo ad altri ambiti di ricerca perché da esso può risalire fino alle trame non disvelate di una vicenda che inizia in un passaggio segreto e si dipana fino a mutamenti cartografici che stanno proseguendo fortemente su certe strategie di oggi e su occulte trasformazioni. E ha studiato come nessuno le buone maniere perché gli atteggiamenti, le messe in sé, le conquiste, i rifiuti cominciano in quel certo giardino segreto e poi cavalcano per deserti e per brughiere. A volte si è tratti in inganno dalla lucida eleganza della sua prosa e per un attimo si cede alla tentazione di credere che quel tale tragitto sia frutto di un'invenzione. Ma subito si riconosce non solo la verità della scoperta sorprendente ma anche la strategia investigativa dell'autrice. Proprio oggi, mentre il sapere storico è disprezzato e svilito, Benedetta Craveri non solo decifra i salotti, illumina corridoi da sempre chiusi, cammina per chiostri silenziosamente delittuosi ma sa raccontare come se inventasse. Immersa in mille paradigmi indiziari, non si lascia mai fuorviare, contempla le maschere del suo settecento, le ammira, le descrive, le classifica e poi le toglie e descrive i volti. Guardando la bibliografia realizzo una sosta, spero non dia troppo disturbo perché è del tutto autobiografica, la quale sosta spiega il perché, pur non mancando le scrittrici ci mancherebbe altro, una storica, una sapiente indagatrice della storia sia stata collocata all'interno di questa dimensione dove gli elementi della finzione dovrebbero essere totalizzanti. L'autobiografia è riferita in alto a un episodio che mi accadde nell'ottobre del 59. L'ottobre del 59 ho vinto il concorso magistrale e mi hanno assegnato come sede Castelletto di Castello di Serravalle e una quinta classe. Da un anno ero scritto all'Accademia di Belle Arti, non mi sognavo assolutamente di iscrivermi alla facoltà di magistero nei confronti della quale non avevo alcuni interessi, tanto più che c'era, i tempi erano quelli che erano, un pesante esame da missione che bisognava preparare perché c'era il numero chiuso. Accettai di dare quell'esame auspicando che mi bocciassero perché un gruppo di albinisti, cioè come me, riduci dall'istituto magistrale albini, voleva fare la solita gara contro l'istituto concorrente, il magistrale Laura Bassi. Se vincevamo più noi, ancora una volta era ribellita la superiorità degli albinisti e dell'Albini. Solo per quello accettai di dare l'esame, mi sorpresi di avere un buon risultato e poi guardai in giro perché la facoltà era sparsa un po' dovunque. Ci trattavano da cani e aveva mille torti, sia il Comune sia l'Ateneo, perché invece era una facoltà creata, fondata, voluta da Giovanni Maria Bertin e quindi la garanzia che poteva dare un così grande pedagogista in Italia non la poteva dare proprio nessuno. Tuttavia la storica Gina Fasoli, la grande medievista Gina Fasoli, faceva lezione ai margini di un barretto universitario e ogni tanto si sentivano i plac delle bocce perché c'era anche un modo di divertirsi oltre che di bere. Questo dice il rispetto dei tempi, del 59. E lì ho cambiato tutto, perché la grande storica aveva questo come testo da proporci, proprio questo. Il sommo storico olandese Joan Oisinga, il quale afferma tranquillamente, ci mette un po' di pagina, che il Rinascimento non c'è mai stato, non è semplicemente mai esistito. Si tratta solo, come dice il titolo, e qui è riportato, di un autunno del Medioevo, non persi nessuna lezione. Addirittura questa idea di far sempre all'arrovestio, di dubitare sempre, di vedere se c'è un'altra possibilità di leggere quella consolidatissima lezione, la porto in me ancora adesso. Diventavamo colleghi perché lei era fuori ruolo, ma aveva diritto di essere, in quanto emerito, partecipare ai consigli di facoltà. Mi diceva ogni volta, dammi del tu. Non mi sogno neanche ai maestri, se da caso mai del voi. E mi portava a bere, perché era di Bassano del Grappa. Quando l'hanno sepolta, ha parlato Monsignor Baroni. Intanto suonava la campanella chiamata la scolastica, che onora i grandi dell'Ateneo, nell'Archiginario. Anche Baroni la ricordava come la ricordavo io, perché le parole che disse suonavano così. Stava facendo una ricerca sulla Madonna di San Luco. Credo che abbia deciso di consegnarla personalmente, perché la Fasoli aveva la capacità di suscitare questa sorridente ammirazione. Consiglio di facoltà, contrasti, voti, eccetera. Sai chi che non mi dai mai del tu, che non dovresti avere questa roba che invece ti regalo. Sono andato alla centrale, ho trovato il mio solito manoscritto del Trecento, la ragazza incaricata delle pratiche mi ha detto, ah no signora? Ho detto, figliola, se potrei prima di morire datare un codice del Trecento. e vado in là più felice. Ma queste sono cose che teniamoci per noi, vero Antonio? E cosa succede allora? Che ci voleva, fra le 25 eccelse, una che perpetuasse questa grandezza. Ma ci voleva anche per un'altra ragione. I maestri, i colleghi, mi dicevano, come fai quando fai le tre guerre di indipendenza? Hai venti bambini? Faccio le tre guerre di indipendenza? Ma non capiscono niente, le donne non capiscono la storia. Comincia da bambini, torna della Lamein, perché io ero una scuola dove erano tutti reduci e quindi ho cominciato una lotta totalmente vincente. Le mie allievi erano bravissime da ogni punto di vista, però questo stereotipo che le donne non capiscono, non ricordano, non amano la storia. Oggi che nessuno la ama, oggi che nessuno la sa, oggi che si digita tranquillamente. Il congresso di Vienna, che compare scritto, 1815, 1956, Quella è l'Ungheria, la cosa migliore sarebbe tirare fuori la Colt, come nei film americani, e sparargli, sarebbe il suo benessere. Oltre che il nostro, che stiamo a vedere, sono cose pericolosissime. Come diceva Nietzsche, chi dimentica le date della storia le rivive e spesso sono orribili. E spesso da rivivere sono orribili. Oggi in un telegiornale e in un giornale è riapparsa una data interessante. Non sarà che la Germania è tornata al 1933? Ah, per chi non sa cosa successe, c'è il colto che dice, prese il potere Hitler. No, mio caro? No. Ricevete la maggioranza dei voti. Obiezione. Ma è evidente che presentava un programma diverso da quello che poi realizzava. No, 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 no. Ebbe la maggioranza del popolo più colto del mondo, presentando nel Mein Kampf, che avrebbe guerreggiato con tutti, ucciso tutti gli ebrei, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, attenzione a non saper la storia perché abitualmente la si rivive e non si gode quasi mai. Chi è la Craveri? Ma devo dire che un po' di mistero lo conserva. Risulta nata nel 1942, quindi risulta avere tre anni meno di me. Ma c'è scritto che insegna al suo orsula ben in casa. Spero che sia un errore, perché dato che non c'è più, ho fatto anch'io una lezione, c'era il sommo avvocato Marotta, ma era un centro culturale napoletano dove venivano chiomati certi intellettuali, ma a dare quel che volevano. Io non parlai di fiabe, fece una lezione su Nietzsche, e non mi sembra che si possa dire che c'è una corrente di insegnamento. Ad ogni modo, con questa grandezza, tutta in edizione a Delphi, che ragazzi, secondo me, un posto nella Università Vera non l'ha ancora trovato, e che mi fa tremare, infatti l'ho disegnata da giovane, non con i nuovi ritratti. Detto questo, vediamo la bibliografia che spiega di cosa si occupa. Allora, intanto ho messo anche L'Histoire de l'amour dans l'Occident, di Denis de Roussaint, perché è l'unico libro che io abbia trovato adatto a stare nello stesso scaffale dove c'è Oisinga, con l'autunno del Medioevo. E poi anche Didier Foucault, in questa sua ottima storia del libertinaggio e dei libertini, perché adesso vedremo quante volte la dimensione libertina ritorna nella ricerca di Benedetta Craveri. Uno dei libri che nella mia vita mi sono stati più cari, tant'è vero che questa riedizione a Einaudi l'ho chiesta io, il libro taceva da decine di anni, è I pensieri di un libertino di Enrico Cayumi. Cayumi è un intellettuale sfortunato che visse in gran parte della sua vita sotto il fascismo, tra persecuzioni di ogni genere, sempre rivendicando il fatto che tra fascismo e libertinismo c'è un'insindacabile reciproca insopportabilità. E' il pensiero antifascista più classicamente antifascista che si può pensare. Quindi è un libro molto utile nel presente, moltissimo. Perseguitato in tutti i modi immaginabili possibili, anche nel dopoguerra non se la cavò molto bene, io lo leggevo adorante sul mondo, arrivavo alle ediccole, aprivo dove aveva la rubrica, dove c'erano i testi di Cayumi, e ad appena 50 anni se ne andò per sempre. Quindi una cosa straordinaria verso cui andare. E poi c'è questa stranissima, questa scorcertante scrittrice, storica, ricercatrice. Perché? Perché alla faccia di chi dice che le donne non capiscono la storia, la bibliografia media sono 150 pagine da restare allibiti. Perché? Perché lei va a prendersi tutti i diari, tutti i documenti, tutti i registri. Lei prima di affermare, uscì dalla Bastiglia, deve essere andata a fare tutti i confronti, infatti sono tutti i ringraziamenti. Noi come popolo non le interessiamo molto, ma invece i grandi storici francesi sono tutti i suoi amici, ringrazia l'Eroala Durie, ringrazia l'Esanal, quindi un po' mistero, perché comunque questi sono livelli oggettivamente altissimi. Scrive come lo sentirete, non sbaglia una riga, ma nel suo tempo sembrano tutti bellissimi romanzi, e inoltre va a vedere sistematicamente, in due modi, dove gli altri non vanno a vedere. Il modo principale è l'intimità, la diaristica, le buste chiuse, quel posto in quella tal biblioteca polverosissimo che promette in quanto polverosissimo. Infatti ci sono tutte le date, tutti i modi per afferire, per cercare, eccetera. Inoltre la sfida è una sfida potentissima, e c'entra di nuovo la Fasoli, che la Fasoli era una medievista di altissimo livello ed era una credente, una cattolicissima, quindi che l'anno dopo, dopo l'autunno del Medioevo, facesse la rivoluzione francese, adottando come testo quel pericolosissimo testo che è la storia della rivoluzione francese di Gaetano Salvemini, lascia intendere che la Fasoli si muoveva in tutte le direzioni immaginabili possibili, sempre a suo agio, considerato il suo genio e la sua capacità anche di ricerca umile, di sacrificio, di giorni e giorni dentro quell'archivio e così via. E quindi ho messo tutto quello che c'è in commercio di Benedetta Craveri, ma poi mi sono sentito di fare un omaggio a un amico, Guido Crepax, il grande disegnatore, il creatore di Valentina. Qui però racconta a modo suo la storia di Casanova. se trovate questa delizia fumettistica, rarità, perché gli editori del Grifo non ci sono più da un sacco di tempo, è in piena consonanza con tutto l'insieme delle proposte. E anche così l'Ezaman di Louis Mal del 1958, un film con Jean Moreau stupendo e importantissimo perché è preso da uno dei suoi, il Point de Landemain di Dominique Barone di Vivant de Nont. C'è in genere un pasticcino, Vivant de Nont Les Amants. Non è così. Il vero titolo è Point de Landemain. È un film bellissimo di rara perfezione libertina, di elegantissima impostazione tutta formale. Malgrado queste caratteristiche ebbe successo del che mi sono sempre meravigliato moltissimo. naturalmente gli hanno negato l'Oscar per fortuna. Era come il francesissimo Sartre che quando Camus prese il Nobel disse ben gli sta. È la seconda volta che lo dico. Vediamo allora che cosa è l'apparato letterario perciò degno di stare in questo corso che ritornerà dalla prossima volta alla letteratura pura ma anche questa volta in certo senso lo è perché scrivere come Benedetta Craveri in italiano oggi non lo so. Proviamo. dalla civiltà della conversazione vediamo come fa a prendere in esame perché lei non segue nessuna tratta è libera e autonoma nella maniera più assoluta non saprei fare rimandi i rimandi sono i soliti cos'è un'allieva del Lezannal li ringrazia ma non è allieva è crociano ma che neanche a pensarci e dei grandi storici italiani allora chi ha seguito nessuno ma perché perché è un'indagatrice che sembra ricavata infatti gli si assegnano dei prodigi storici Sherlock Holmes l'ha studiato anche Gilbert il paradigma indiziario del caro amico e collega è Holmes il paradigma indiziario lo usa anche lei ma lo rende così strano e poetico così sconcertante con i soprassalti che lei fa da pensare che giustamente è Calasso che è uno scrittore anche lui oltre che un editore l'abbia voluta tutta intera all'interno della gloriosa Adelfi capitolo terzo di La civiltà della conversazione titolo La camera azzurra non è possibile stabilire con esattezza l'epoca in cui il salotto di Madame de Rambouillet aveva aperto i battenti anche se da una lettera di Malherbe sappiamo che già nel 1613 la Marchesa riceveva regolarmente a casa sua vi è tuttavia una data il 1618 che si presta ad assumere un carattere inaugurale in quegli anni infatti iniziarono nell'hotel du rue Saint-Omande de Louvre i lavori di ristrutturazione che avrebbero consentito a Madame de Rambouillet di creare la cornice più consola alla sua nuova celta di vita due fattori tra loro complementari concorrono a rendere memorabile l'evento l'edificio avrebbe occupato un posto importante nella storia del gusto e dell'arredamento e sarebbe stata la Marchesa stessa dunque una donna a svolgere le mansioni di architetto aperte virgolette una sera scontenta di tutti i progetti che le venivano sottoposti dopo averci riflettuto a lungo si mise a gridare presto della carta ho trovato il modo di fare quello che volevo e lì per lì ne fece il disegno perché naturalmente sapeva disegnare e tale disegno venne seguito punto per punto e lei che ha insegnato a mettere le scale da un lato così da avere una grande infilata distanza ad alzare i soffitti a fare le finestre alte larghe disposte simmetricamente di uno di fronte alle altre e cioè è vero al punto che quando Maria de' Medici fece costruire il Luxembourg ordinò agli architetti di andare a vedere l'hotel del Rambouillet dal che essi trassero tanto giovamento è lei che per prima ha avuto l'idea di dipingere una stanza di un colore diverso dal rosso o dal cuoio e per questo alla sua grande sala è stato attribuito il nome di Camera Azzurra e due principali soluzioni architettoniche che Tajamano attribuiva alla Marchesa non erano delle assolute novità come pure non era nuova l'idea di creare un senso di unità coordinando i colori e i tessuti di una stanza senza precedenti erano invece l'effetto d'insieme della casa alla fine dei lavori e l'ammirazione che questa suscitò nei parigini tanto da essere considerate il palazzo virgolette più celebrato e famoso dell'intero regno chiude virgolette la limona di Rousse Antomar du Louvre sorprendeva per la sua regolarità ma l'aspetto chiaro e armonioso di ispirazione italiana si coniugava con una sensazione tutta nuova di intimità e di comfort subito imitato l'hotel de Rambouillet si imponeva così fin dall'inizio come il perfetto prototipo del decor che per quasi tre secoli avrebbe fatto da sfondo al rito della sociabilité francese nel disegnare con mano in sicura lo scenario archetipico della vita di mondo Madame de Rambouillet sembrava tuttavia concepire la propria dimora anche come un rifugio dal mondo un locus amenus dove dimenticare la crudezza della vita reale dove filtrare la fisicità violenta che si respirava nel fango e nel disordine delle strade parigine ciò che colpiva i contemporanei della Marchesa e continua a colpire chi legge le loro testimonianze è il senso di sorpresa e di spaesamento che oglieva i visitatori di Rue Saint-Thomas du Louvre Taillamard racconta che come Madame de Rambouillet fosse riusita a piantare davanti alla sua casa un viale intero di sicomori e seminarvi un prato potendo così menarvando di essere alla sola a Parigi a vedere tagliare il fieno proprio sotto la sua finestra mademoiselle de Scudery e ritraendo nel Grand Circus la Marchesa sotto il nome di Cléomard ha sottolineato con molta efficacia l'effetto illusionistico del palazzo della sua atmosfera magica la Marchesa ha scoperto l'arto di far sorgere su un terreno di dimensioni modeste un ampio immenso palazzo l'ordine l'armonia la polizia contraddistinguono tanto gli ambienti quanto l'arredamento nella sua casa tutto è magnifico tutto è speciale le lampade sono diverse da quelle che si vedono altrove le stanze sono piene di mille rarità che attestano la competenza di colei che le asselte l'aria è sempre profumata molti cestini magnifici pieni di fiori creano nella sua casa un'eterno primavera è il luogo in cui la si vede di solito è così piacevole così ben ideato che si ha l'impressione quando le si è accanto di esserse sotto l'effetto di un incantesimo chiuse virgolette riflettiamo allora a Benedetta Craveri è facilissimo dopo pagine di questo genere dare della reazionaria tutte le grandi storie della rivoluzione francese che abbiamo studiato cioè le fevre in quattro volumi da Einaudi con addirittura il cofanetto per contenerli partono da un punto di vista che è l'opposto già appunto questo è il punto di vista di Benedetta Craveri qual è il punto di vista ufficiale più serio più insistito c'era una carestia troppo a lungo protratta c'erano delle contraddizioni troppo evidenti baroni e principi che cavalcavano mentre i vendicanti tendevano la mano c'era quindi quella disuguaglianza che porterà al suo contrasto a porre legalità come la prima innovazione dopo la convocazione degli stati generali il fatto è che su tutto questo Benedetta Craveri esprime dei dubbi di altissimo livello non fa nassere la presa della Bastiglia dalla fame e dalla carestia ma dalla camera azzurra fa scaturire dalla battaglia delle idee anche la ghigliottina e si duole della ghigliottina non la presa si duole della partenza di tanti nobili per la Germania per la Svizzera per la Spagna vorrebbe che non fossero partiti perché una cosa le dispiace profondamente anche se l'accenno è brevissimo e che appena convocati gli stati generali appena creato il Parlamento appena cominciate le diatribe fra i partiti l'unica cosa che aumenta è la fame l'unica cosa che cala è il pane chiacchiere chiacchiere a non finire picche e oggetti di taglio reciproci avvilinamenti Marà ucciso in bagno mentre i suoi colleghi sono già stati ghigliottinati tutto questo a Benedetta Craveri non piace vorrebbe che si arrivasse a una composizione politico-partitica molto più moderna e ha ragione perché si meraviglia della mancanza assoluta di citazione di un libretto che è tradotto in varie lingue perfino in italiano e che circola nel Settecento e che sono i dibattiti di Putney dove Oliver Cranwell lui si crea davvero il primo Parlamento ma in Inghilterra a Putney è vero che anche lui taglia la testa a un re è sempre una buona cosa diciamocelo però è anche vero che quell'atto non è l'inizio del terrore è la fine del terrore Cranwell organizzerà le sue milizie in senso democratico restaurerà una monarchia davvero accettabile dopo quella vergognosa che aveva distrutto e nascerà il più antico Parlamento della storia dell'umanità quello inglese queste note gliele metto però io lei non agisse così io mi meraviglio che non citi i dibattiti di Putney la figura di Cranwell il primato del Parlamento inglese è perché lei ha un rigoroso disegno in mente che abbia o no ragione è severissima di una coerenza micidiale nel dar posto alle donne i maschi in realtà interessano così poco che perfino il signore di quegli anni il liberato dalla Bastiglia il portato nascostamente in trionfo il marchese de Sade si becca mezza riga intanto intanto ragionare di quegli anni posso cercare di spiegare perché lo fa e io ritengo attualissima questa lezione che lei ci dà la lezione è questa a un certo punto liberano Sade si stampa con tripudio tutto quello che aveva accumulato in cassetti in prigionie in fugue e quant'altro obietta la Craveri in mezza riga ma è poi bene farlo allora non lavoravo sui suoi libri ma ho scritto anch'io in un mio libro che si chiama come quel capitolo l'enofiti di Rettif ed edito della Nuova Italia il mio parere su quel momento il mio maestro Bertin diceva allora smetti di andare da giusti a comprare dei vestiti costosissimi abbi abbi la fazza di vestirti come il tuo amato Rettif della Breton che si è comprato un mantello solo nella vita pieno di buchi si portava una civetta qui e il cappello gliel'aveva regalato un mendicante dopo averlo usato per richiedere le monetine Rettif della Breton è l'eroe segreto della rivoluzione francese lo sarebbe stato a più livelli anche Saad non è questa l'opinione di Benedetta Craveri eccola che improvvisamente entra a pieno titolo a pieno registro nel nostro corso con una dolcezza una sapienza infinita mette sulla ribalta più alta solo donne scrittrici poetesse amiche benefattrici di importanti intellettuali animatrici di salotti obietta che la rivoluzione che la più antica delle rivoluzioni in senso moderno sia nata lì e posso cercare di vedere come fa a muoversi in questo difficilissimo terrificante momento storico conservando l'oligianza dello stile e l'infinità della sapienza perché 150 pagine di bibliografia per un testo che lo vedete vuol dire che un quarto è dedicato alla bibliografia quindi come serietà non c'è da dubitare i trent'anni di regno di Caterina coincidono con uno dei periodi più tragici e sanguinosi della storia francese e per molto tempo si pensi alla celebre requisitoria di Miceleux se n'è attribuita la responsabilità alle sue scelte politiche facendo di Caterina stessa l'emblema delle debolezze della doppiezza della perversità intrinseca nella natura femminile per la verità non sarebbe la natura femminile ma la natura medicea il mio collega che aveva la mia cattedra e ci incontravamo la fiera di Bologna non mancava mai di dirmi l'insulto più dolce dei francesi o dolce e anche cattivo Antoine tu as un regard florentin hai uno sguardo fiorentino il peggio del peggio mi veniva infatti di rispondere in bolognese che sono nato in via San Felice la quintessenza della bolognosità se ne è accorto perfino il fiorentino Dante che teneva per la fiorentina e non aveva nessun sussulto verso di noi visto che ci ha messo tutto all'inferno ma cosa fa la fiorentina a Parigi cosa fa Caterina con in mano tutto una natura resa ancora più pericolosa nel suo caso da caratteristiche tipicamente italiane come la superstizione la fede negli indovini e negli astrologi l'uso disinvolto del pugnale e del veleno la storiografia moderna è stata assai più benevola nei confronti della vedova di Enrico II giudicando il suo operato sulle basi delle reali possibilità di scelta che ella ebbe nel contesto politico in cui si trovò ad agire e mostrando come il suo margine di manovra fosse sempre limitato in un paese lacerato dai conflitti religiosi e minacciato nella stessa integrità territoriale dall'ambizione di potere e dalle spinte autonomistiche dei grandi feudatari Caterina De Medici perseguiva in realtà un unico obiettivo preservare l'eredità dei figli mantenere per sempre intatta l'autorità reale e poiché non aveva la forza sufficiente a difendere con le armi un patrimonio familiare inseparabile dal destino della nazione e la voleva a tutti i costi la pace la pace civile la pace con i paesi vicini e per questo era disposta a utilizzare metodi tortuosi a percorrere vie traverse a cambiare continuamente alleanze a mantire a tradire ad uccidere la sua politica di pace era del resto perfettamente coerente con la filosofia neoplatonica di cui come attestano anche i libri della sua infinitamente ricca biblioteca la regina madre era seguace convinta ma fin qui per la verità avevamo le opinioni ben diverse di Alexandra Dumas per bisogna aggiungere padre perché c'è anche il figlio cioè che fosse una scalza cane di italiani no per la verità essere all'epoca di Caterina dei Mellici sovrana e neoplatonica con una biblioteca adeguata voleva dire che Dumas sta raccontando io lo adoro io i tre libri con le illustrazioni di Gustavino ricorderò sempre la fine dei tre moschettieri che mi metto a piandere arriva subito mio padre c'è vent'anni dopo ce n'è un altro e finisco anche vent'anni dopo e arriva mio padre pronto con il visconte di Braselon e poi in dialetto santagretese le fnitte e ne avevamo più niente io lo ricordavo così l'infame fiorentina la lurida italiana tra un veleno e una pugnalata è una seguaccia della filosofia neoplatonica e ha la biblioteca per dotarsene dopo il regno la notte la lettura e anche un disegno mentale politico col neoplatonismo ovvero Caterina diffamata da film fumetti tutto quello che ha voluto dire male di Caterina l'hanno fatto con il neoplatonismo in realtà cerca di spingere i luterani un po' più in là meglio se oltre il reno i severissimi nordici a pascolare le bestie in periferia dell'Aia e i seguaci a sud del concilio di Trento ben oltre menton cioè cos'è? è una grande coltissima sovrana possiamo dar retta a Dumas o a Benedetta Craveri credo che non mi sia rimasta nessuna possibilità che convertirmi all'istante dovrò fare ammenda perché per me quando c'è quella cena una di queste volte gliela mando gliela fotocopio e nei tre moschettieri Aramis che corteggia tutte le donne belle Brubac si una donna corteggia e basta finito in un intrigo cioè la regina ha regalato al suo amante che è il re d'Inghilterra ci scappa una guerra dei trent'anni dei bellissimi Pendant allora bisogna andare a rifrendere perché non ha fatto i conti con un cardinale che si chiama Rissoglieu e continuamente quando il re sente si inginocchia di fronte alla sovrana e dice qui i bei Pendant o vederveli ornare il volto lui lo sa benissimo che lì ha il re d'Inghilterra fra l'altro ha disseminato di guardie del cardinale ma lei si rivolge alle Trois Muscater i quali stabiliscono una strategia ci sono le guardie e dobbiamo raggiungere Londra quindi il primo che è ferito muore lo lasciano lì e proseguiamo gli altri due finché uno bisognerà pure che vada dal re e li riprenda sì che arriva d'Artagnan diciamo a quattro non tre ritorna ridà immediatamente alla sua regina i Pendant lei si rimette la sera Eminenza vi piacciono e la cosa finisce lì si tratta di andare a riprendere i feriti Atos si è dato alla stranezza vuol fare uno così un guerriero meraviglioso il più grande del padrecino di Plano vuol fare l'agricoltore e in mezzo alle mucche allo storico D'Artagnan lo tira immediatamente via Porto si è trovato alla cantina dei suoi sogni quindi è dietro una botte che ciuccia tutta piena di madera anche lui viene ritirato e Aramis sta per prendere gli ordini ha già il saietto a mezza tronsura la cosa più grave è quando D'Artagnan mi porti tre salsicce e ho visto un bel pezzo di porco arrostito per te spinazzi è venerdì è il digiuno pre-pasquale si sente morire ha una cosa segreta tira fuori una lettera l'ha tenuta qui negli ampi stivali dal profumo riconosce se lo porta più vicino e poi fa tre salsizie anche a me quattro boccali di porto questo diventa imbattibile lui però non lavora sull'archivio è Benedetta che va a frugare e scopre infinite altre preziosissime cose anche se devo dire la verità mi sembra che questi romanzi leggibili come tutti i capolavori oso dire che si tratta proprio di capolavori che ha ragione la Delphi leggibili come romanzi di avventura come documentatissime ricertazioni politico-filosofiche come splendidi ragguagli su noi sull'attuale su tanti pasticci che non combineremmo se stessimo più attenti alle cose che ci regala questa grandissima schettrite questa grandissima storica la regina madre vuole inoltre continuare ad attenersi alla lettera dell'etichetta di corte di cui Francesco prima aveva fissato le regole scandita da rituali immutabili e pubblici il levé il consiglio la mezza la passeggiata il pranzo l'udienza il cercle dell'orrain la cena il ballo il corsè la giornata del re si svolgeva uguale a se stessa in tutte le desidenze reali la più importante naturalmente era la regia del Louvre a Parigi ma non era la sola fino a quando Luigi XIV non stabilì definitivamente a Versailles la corte francese fu sempre itinerante e accompagnò il re di castello in castello di regione in regione per permettergli di visitare il paese e di farsi conoscere dai suoi sudditi sulle orme del suocero quando Carlo IX raggiunse la maggiore età Caterina intraprese un viaggio di due anni attraverso la Francia dal gennaio 1564 al maggio del 1566 in seguito accrebbe il numero delle residenze reali con la giunta di Senonceau con la costruzione delle Tuileries e con l'ampiamento del Louvre continuando al tempo stesso ad abbellire quelle già esistenti distinguendosi per il suo gusto per i giardini segliendo con competenza artisti e architetti seguendo personalmente progetti e lavori e arricchendo con sempre nuove acquisizioni le collezioni reali era anche un'instancabile creatrice di spendide e coreografie sapeva ovunque si trovasse svagare la corte con un susseguirsi di feste banchetti balli mascherate concerti spettacoli gioste tornei caruselli non vi era disfatta militare massacro carastia che potesse interrompere il flusso degli spettacoli e dei divertimenti e ciò rispondeva a un preciso disegno politico come avrebbe spiegato lei stessa in una celebre lettera di consiglia Enrico III si atteneva che si atteneva anche in questo all'esempio di Francesco I il quale sosteneva che per vivere in pace con i francesi e assicurarsi il loro affetto erano necessarie due cose tenerli allegri e impegnati in onesti esercizi perché sennò fanno la guerra i francesi si trovano sempre altre occupazioni pericolose Caterina puntava dunque sulla forza pacificatrice del piacere invogliando l'alta nobiltà a frequentare la corte coinvolgendo cattolici e protestanti negli stessi divertimenti promuovendo l'incontro con le nuove generazioni di gruppi tradizionalmente nemici e per meglio indurre in tentazione i suoi ospiti non esitava a fare ricorso alla seduzione femminile Francesco prima aveva detto che una corte senza donne era un giardino senza fiori ma nessuno più della regina madre sapeva che alla loro evidente funzione ornamentale se ne raggiungeva uno meno visibile ma altrettanto importante perché esseri detenevano un potere nascosto tanto più grande quanto più impalpabile di cui gli uomini per primi conoscevano l'efficacia e si servivano per rafforzare il proprio trovandosi a vivere ogni giorno negli stessi luoghi a prendere parte agli stessi rituali a trascorrere insieme il tempo fra una cerimonia e l'altra le donne di corte erano unite da legami di amicizia di solidarietà di simpatia di cortesia e formavano una rete di contatti sotterranea parallela a quella ufficiale costituita dall'etichetta dai rapporti di forza dai codici d'onore era un sistema di comunicazione fondato sulla delicatezza e sul riservo femminile che consentiva a padri mariti e fratelli di ottenere informazioni preziosi di trasmettere messaggi in modo informale di sondare il terreno per gettare le basi di eventuali nuove eleanze senza rischiare di incorrere in un rifiuto di perseguire gli interessi familiari di promuovere matrimoni vantaggiosi e all'occorrenza di smussare l'aggressività femminile e adolcirne le offerte c'è una considerazione da fare lei non è Duma lei la storia della lettera profumata di Aramis l'ha inventata lei non inventa nulla queste sono le pagine delle bibliografie cosa credo che abbia in mente io sono un pedagogista non sono uno storico che abbia in mente oggi di andare a vedere le zone della storia dell'umanità in cui ad un tempo le donne hanno contato moltissimo garantendo delle possibilità positive nei confronti di possibilità che invece si rivelarono puntualmente negative e con l'idea di far sapere in una dimensione sociopolitica che è poi quella che ci caratterizza che vediamo tutti i giorni che nasconde proprio queste potenzialità e non le lascia esprimere le considerazioni le firmo io non ci sono lei presenta due cose l'articolazione culturale del potere delle donne in certi momenti in certe situazioni e l'immensa possibilità di verificare attraverso le straordinarie puntigliosissime bibliografie allora si può venire molto tranquillamente e quasi obbligatoriamente attraverso Benedetta Craveri all'oggi sappiamo che c'è degrado ovunque ma specialmente in politica sappiamo che oltre gli insulti e le scritte non si va sappiamo di magliette in stadi sappiamo di sberleffi sappiamo di utilizzazioni di cose sconcertanti nella primavera scorsa dopo alcuni mesi di presidenza di Trump un giornalista di Repubblica ha scoperto che un personaggio di un famoso mensile e poi divenne settimanale per grande concorso di giovanissimi lettori che si chiamava il Monello aveva un personaggio che è identico a Trump 60 anni fa questo ragazzone che si chiamava di nome Superbone che picchia tutti è identico a Trump in modo da lasciare così è esplicita propaganda al Monello perché se ne trovano facilmente nel secondo sabato del mese e la seconda relativa domenica in Piazza Santo Stefano perché Superbone somiglia a Trump e questo lo dovremmo chiedere a Benedetta Craveri perché Benedetta Craveri ha questi interrogativi che lei stessa si pone purtroppo per me mentre mi esalta il fatto che lavori su secoli tra il 5 e il 7 sempre francesi abbia questo spazio come un grande storico deve limitare si va in profondità non in ampiezza però nello stesso tempo mi piacerebbe che Benedetta si occupasse di Trump perché io avessi la possibilità di sentire queste straordinarie finezze rapportate alla Casa Bianca rapportate a Superbone e naturalmente l'unica cosa che consiglio è di leggerseli tutti questi splendidi libri non solo non è tempo perso ma è anche una maniera per vivere meglio l'oggi perché una cosa lei scopre e terribilmente documenta qui anche nei momenti di più grave degrado politico si è sempre un po' superiori all'oggi non credo che Benedetta sia una progressista non so francamente se questo termine abbia una definibilità reale ossia invece come quei termini così che ogni tanto qualcuno tira fuori mi impressiona il fatto che per esempio non le piace Lafayette e questo è un grave colpo per me perché io sono un colonizzato totale io stavo all'USIS United State Infirmation Service tutti i pomeriggi ero immerso nei loro luoghi e quindi quando leggevo e si formò così la famiglia la il gruppo della squadriglia Lafayette e andarono a combattere nelle Fiandre con dei tedeschi che c'era ragazzi c'era Faulkner ma proprio Faulkner sì e perché e perché Lafayette era corso ad aiutare i francesi gli americani cioè era corso ad aiutare gli americani nella lotta contro gli inglesi era quindi prima di Garibaldi un secolo prima a tutti gli effetti l'eroe dei due mondi perché lo detesta perché è andata a vedere molto semplicemente ha visto in questo eroe dei due mondi che inumidiva i cigli di Hemingway di Faulkner di Steinbeck di William Saroyan un buffoncello che cercava di comperarsi le cariche un tirannello che voleva sempre andare più su anche non avendone i meriti insomma mi ha distrutto il mio Lafayette e però io d'oretta a lei non a Lafayette io d'oretta a lei in questo caso non a Faulkner che invece era pilota della squadriglia perché il problema è sacro per Benedetta è sacro per chiunque le fonti esibite e qui sono esibite puoi andare a verificare e se non fai quello è meglio che non scrivi e siamo sicuri che lo facciano tutti e lo facciano sempre noi siamo pieni di cifrare di cose anche recentemente ho letto che sono un cretino lo leggo continuamente chi crede all'esistenza di un carteggio Churchill Mussolini è un cretino e come ne assumo subito ci credo vado addirittura a spiare nelle colline pesaresi per cercarlo lì quindi sono un cretino Benedetta non meriterà mai questo fatto perché lei tanto esibisse perfino l'angolo di strada dove finisse quella biblioteca dove ha trovato quel manoscritto che tutti quelli che entravano davanti non trovavano quindi da perfino le ubicazioni interne perché perché è una grandissima storica una cosa che mi lascia sconcertato perché l'ho voluta paragonare a Gaetano Salvemini al sommo al grande Salvemini come si faccia a fare storia così scrivendo così deliziosamente perché Salvemini scrive da cani Salvemini è pieno di ripetizioni di avverbi che non vanno bene di conseguenzialità che non starebbero lì di oggetti di congiuntivi usati a proposito mi fa tornare maestro con la cosa rosso-blu lei mi fa invece un'invedia smodata visto che volentieri leggendo le sue pagine mi aveva voglia di smettere di scrivere io i primi mesi del 1789 furono dedicati alla preparazione degli stati generali in un clima di aspettativa febbrile le centinaia centinaia di pubblicazioni che inondarono la Francia sul grande esperimento politico in corso mostravano bene come gli animi fossero divisi e il futuro pieno di incognite attanagliata da un freddo glaciale tormentata dall'alto tasso di disoccupazione la popolazione parigina a cui si erano aggiunti molti poveri venuti dalla provincia pagava le conseguenze dei disastrosi raccolti dell'anno prima e malgrado gli sforzi di Neckar era minacciata dalla carestia eppure ricorderà Madame della tour de pain virgolette mai eravamo stati così disposti a divertirci senza minimamente curarci della miseria pubblica la testa sulle spalle le resterà per ancora 15 mesi sarà una delle prime chigliottinate chiuse virgolette mentre Norvain indicherà in maniera lapidaria un epilogo sorpresa di quell'ultima stagione mondana perché si trasferiranno nella Place du Tertre ad ammirare la ghigliottina e a urlare Saira si ballò ovunque in quell'inverno a Parigi ballò la nobiltà che stava per perdere tutto ballò la borghesia che stava per prendersi tutto il risconte di Segur per non venire meno alla sua fama iniziò l'anno cantando dei couplet in l'ode dell'abate Barthelémy l'autore del viaggio di Anacarsi il giovane in occasione di una festa data in suo onore da Madame de la Ranier virgolette grazie all'autore abbiamo dimenticato guai e si augure di questo momento e in virtù del suo genio e il passato del presente consola il tormento di virgolette recitavano i versi conclusivi perché Giuseppe Alexandra sapesse bene che il passato era diventato la chiave di lettura di un presente di cui lo stesso intesseva instancabilmente la cronaca in versi in quei primi mesi del 1789 il visconte prese parte anche alle discussioni che si tenero al Palermo e al sulle istruzioni che Orléans intendeva impartire al rappresentante dei suoi baliaggi e adesso visto anche come siamo messi non mi voglio dimenticare una scoperta che spero di ritrovare ecco è questo ricordo come erano bravi erano bravissimi i componenti del quartetto Cetra in una stupefacente canzone che ormai mi commuove quando la ritrovo in un vecchio palco della Scala e c'era l'elenco degli spettacoli lernani i puritani i vespri siciliani in un vecchio palco della Scala naturalmente c'era sempre anche l'Andrea Senier chi si ricorda chi era Benedetta Graveri scopre che era uno straordinario poeta davvero chissà quante volte la segnale è andato al comunale ma questa poesia mi è rimasta in mente moltissimo leggo ciò che ne dice lei poi vado avanti nella poesia tenendo d'occhio perché abbiamo i bellissimi disegni di una illustratrice che si lega perfettamente oltre ad essere una mia carissima ed a me lo datissima amica la Cinzia Ghigliano e quindi bisogna attenersi all'ordinamento solo Emede Quagni trovò grazia ai suoi occhi e lo riportò per il tempio di un'ode nel mondo delle speranze e delle illusioni feconde eppure la giovane donna era la quintessenza della leggerezza e della spregiudicatezza morale di una casta privilegiata che Andréa Segnè detestava e non è improbabile che il poeta avesse già avuto occasione di incontrarla fu conquistato dalla sua bellezza e dal suo rifiuto di cedere alla disperazione deponendo per un istante la triplice frusta Segnè rispose al canto di quella incontevole birichina scrivendo alcuni tra i versi più belli dell'intera storia della poesia francese e facendo di lei il simbolo della giovinezza innocente grato a Benedetta Craveri di avere riportato per intero la poesia si matura la spiga graziata dalla falce senza temere il torchio il pampino in estate beve le dolci offerte dell'aurora ed io giovane come loro e come loro bella pur nel presente grave di ansia e di dolori non voglio ancora morire corra incontro alla morte lo stoico a ciglio assiutto io piango spero e al cupo soppio di borea chino la testa e poi la risollevo se vi son giorni amari se venedi così dolci quale miele ahimè non lasci alcun disgusto quale mare non conosce la tempesta la feconda illusione alberga nel mio seno i muri di una cella su me gravano in vano della speranza o lali all'insidia sfuggita all'empio uccellatore più viva e più felice negli spazi celesti spicco il volo cantando filomela sono io dunque a dover morire tranquilla mi addormento tranquilla veglio né veglia né sonno dei rimorsi son preda il mio saluto al giorno splende negli occhi altrui su volti sconsolati qui dentro il mio sembiante quasi riporta gioia lontano dalla fine è ancora il mio bel viaggio parto i primi ormi che bordano la strada ho superato appena è appena cominciato il banchetto della vita per un solo istante con le labbra ho sfiorato la coppa ancora colma tra le mani è solo primavera voglio vederle messe di stagione in stagione come il sole voglio finire l'anno splendida sul mio stelo gloria del genio giardino solo ho visto brillare le luci del mattino voglio finire il giorno o morte puoi aspettare lontano va lontano a consolare i cuori tormentati dall'onta dalla paura dal livido sconforto pale ancora per me ha in serbo verdi asili e gli amori hanno baci e le mure concerti io non voglio ancora morire seppure triste e recluso la mia lira si destava al suono dei voti della voce dei lamenti di quella giovane reclusa e scotendo via il peso dei miei giorni languenti alle regi soave della rima ho piegato gli accenti di quella bocca amabile e innocente testimone armonioso della mia prigionia il mio canto indurrà qualche studioso a cercare chi fu mai questa bella la grazia ne adornava il volto e i detti e come lei dei giorni spaventavano la fine quanti vicino a lei trascorrerli potranno è particolarmente importante perché noi siamo un paese che la guerra civile l'ha avuta 70 anni fa ma i cui riverberi sono presenti quasi in ogni telegiornale è un'aria non dissimile gira anche per l'Europa tra le conclusioni rispetto a tanta grandezza è pressoché impossibile c'è solo da augurarsi che ci dia queste nuove splendide stupende difficili da definire non sono romanzi c'è una precisione allucinante sono esempi di metodologia storica da far valere come tali sembrano romanzi per come costruisce per come dilata una certa spaziatura alza una certa figura ne abbassa un'altra odia i luoghi comuni non lo dice mai ma li odia di combattere l'unico modo in cui lo studioso può comportarsi andando a vedere com'è davvero nella minima parte la situazione cosa darei per avere un salò fatto da lei in Adelfi con la capacità che ha lei di andare a vedere cosa c'è dietro quella burta e cosa c'è nascosto dentro quel diario non mi sembra che malgrado la glorificazione indubbia che le proviene dall'essere tutta in Adelfi abbia la gloria che merita non sento quella gloria che è toccata a storici che quasi storici non sono che hanno commesso errori di puntualizzazione e di ricerca e che hanno raggiunto una notorietà che a lei non spetta le rendo omaggio tornando all'inizio a Gina Fasoli e all'autunno del Medioevo per dimostrare che non c'è il Rinascimento che non c'è mai stato che c'è stato solo un lungo Medioevo che è arrivato fino alla scoperta dell'America il tremendo Ising va a prendere una cronaca di un torneo che è quasi coevo della scoperta dell'America e lo mette qui nell'edizione Sansoni che usava Fasoli perché ci sono state altre edizioni è a pagina 102 ditemi se non è Medioevo questo ci sono due che si amano ma lei è sposata e inoltre è piuttosto credente i due dicono che vogliono avere un rapporto qualche cosa che tocchi la loro felicità lei ne propone uno al torneo fra tre giorni non mettiti non metterti l'armatura va in campo con la mia sottoveste quella che tolgo dall'avere toccato la mia pelle si rorerà di sangue allora me la rimetterò e sarà il contatto che ci concederemo ci fu il torneo mise la bianchissima sottoveste mezzo morto la fece pervenire alla nobilissima amata e qui c'è la Fasoli perché il cronachista dice e lei ebbe il terrificante coraggio di mettersela e io modesto figliolo del novecento trovo coraggioso lui e la propria lezione ma sta zitto ma non farti sentire capiscilo questo medioevo il coraggio ce l'ha lei e il medioevo non è finito l'america l'ha scoperta ma il prolungamento di quel sangue su quella pelle dice che siamo ancora indietro e tantissime cose andrebbero fatte così spostamenti di date ricerche approfondatissime assegnazioni di senso io sono grato ai presenti stasera perché mi consentono di rendere omaggio e sono tanti i presenti stasera alla Craveri io non so se un omaggio così le è stato riservato mi parrebbe di no non è neanche che io la voglia vedere in televisione o sulle copertine dei rotocalchi per carità ecco mi sembra che forse le dovrebbe spettare quello che mi fa così rabbia di vedere non spettante a pound casa pound ma lo sapete davvero chi era da sera dalla Gruber si è detto ma è possibile che si faccia questo uso del più grande del novecento certo quando ero un ragazzino gli americani lo liberarono dal manicomio dove l'avevano tenuto dopo averlo tenuto in gabbia a Pisa in una gabbia come gli animali da ciò i Pisancantos non avevo la televisione non l'ebbi per moltissimi anni la guardavo dai vicini liberato chiese di non toccare il suolo americano fu portato in barella sbarcò alla Valpensa chiese di essere portato a Rapallo baciò il terreno inchinandosi i telecronisti erano come quelli di oggi non bisogna vantarsi di un passato che non c'è perciò il cretino che gli pose sotto la bocca il microfono c'era già nel 56 quando tornò con questa delicata domanda uno che aveva passato a Pisa in gabbia il resto degli anni in un manicomio nel Texas pound pound cosa ne pensa dell'estetica crociana ma era grande davvero e la risposta in un italiano con forte accento fu non funziona sono rimasto lì mi auguro che la Traveri scopra queste zone vada ad indagare oltre i suoi amati rivoluzionari ai suoi amati libertini e le compagne loro e le suggeritrici e tutto quello che questo incredibile mondo mette in evidenza anche zone un po' più vicine ce ne sarebbe un gran bisogno hanno asselto i disegni di Cinzia Ghigliano che è una grandissima disegnatrice un poco in ombra quindi c'è una consonanza è una meraviglia di stile gode di un primato pubblicò appuntate 45 anni fa sua amica una storia a fumetti con tutta protagonista un'indagatrice donna non contenta di aver messo questa di averla messa a puntate che puntate nei fumetti non andavano più la disegnò a matita e non la ripassò a china è fatta così ho incorniciato in casa un suo disegno e ho vicino la copertina che ne ha ricavata l'assia l'assia così vedete cosa è capace di fare tanto che mi imbroglia tecnicamente per quanto io la conosca per quanto abbia lavorato bontà sua per me Cinzia Ghigliano sono stupende inutrazioni da libri questo è un romanzo di Isabella Liende ma questa è Isabella Liende quindi c'è una doppia riscrittura dove di notevole bisogna guardare il tocco quasi da segno rinascimentale la leggerezza dei contorni la inedita collocazione del personaggio il contrasto tra delle forme tra carnale e spirituale in una combinazione molto intensa molto variegata ma il fatto però che ha un libro in mano che sembra ricavato dal iperrealismo americano perché ce l'ho anch'io ed è esattamente al millimetro così poi impagabili ci sono i suoi fiori in cui è specialista è geniale il fatto che la chioma quasi da mito o quasi da medusa prenda quasi metà della icona complessiva trassi sevalier con la fanciulla apparsa anche a Bologna e il mondo di trassi sevalier perché metà è data è data a una dimensione di metropoli a una dimensione di città cioè come è lei come narra lei come la possiamo vedere in questo straordinario ritratto che è concettualizzato esattamente nella stessa misura in cui è messa in evidenza nei capelli nell'appositura nell'uso di quello straordinario rosa inventato da lei nel non vedere altro che camicia e manica sulla destra che razza di gigante è sul piano della illustrazione narrativa Ian McEwan con la stessa genialità costruttiva che si evidenzia con il rapporto immagine di spalle e verità riflessa quindi il famoso gioco dell'asmeninas Velasquez citato con la furfantesca abilità di questa straordinaria disenatrice che non contenta di questo ha fatto una citazione di Paesi Bassi anche dietro la finestra e coraggiosissimamente ha messo in evidenza questa costruzione di rosso che è un geniale omaggio all'informalità alla possibilità di un colore materico che diventa una sorta di dichiarazione di poetica Ugo Pratt lettura in bagno si vede che lo sta leggendo ma si vede anche il generoso affettuoso omaggio al collega perché c'è questa situazione da grande mare salato c'è questa situazione da tropici c'è questa situazione da vegetali che confluisse nell'abitato che sono tremendamente alla Pratt in particolare per quello che riguarda il soggiorno lunghissimo in Argentina e il suo lavoro realizzato là ma anche il lavoro nelle Elvetiche perché è in Svizzera che è morto e il passaggio all'inizio degli anni settanta in Francia e la splendida narrazione riferita alla Prima Guerra Mondiale creata per gli editori francesi e il protagonista il letto in questo momento non potrebbe essere meglio di così è Zor Simenon la fanciulla che legge mette in evidenza la trama che porta a quegli scalini la solitudine del faro l'inquietudine domestica il vero inimitabile cuore di Simenon cioè quello che come nessun altro giallista gigante come lui sa fare adorato nelle lettere di Federico Fellini sono tantissime che gli ha scritto è questa idea di far sentire delitto in ogni angolino assassinio in ogni seggiolina ma Cinzia secondo me sa che appunto li voglio anche bene siamo anche amici abbattuto Simenon in questo caso Elisabeth Strauss tra ritratto e elemento narrativo stupenda la rinascimentale divisione di piani narrativissima la parte a sinistra fortemente biografica fortemente legata alla scrittrice la parte di destra che dire di questi capolavori del narrato iconografico ma che sono unici naturalmente e rimpianto ce l'ho come suo grandissimo ammiratore della sua relativa scarsa notorietà abbiamo fatto un libro insieme fra poco lo si vedrà conosce tutto il rispetto che opera il suo lavoro meriterebbe un po' di più ed ecco García Márquez i cento anni di solitudine perché sono così perché l'abilità che sconcertò tutti alla fine del decennio anni sessanta che vide comparire il libro fu il coraggio di fantasticare in anni in cui si era addirittura superato oltransisticamente il neorealismo per arrivare al neo oggettivismo degli scrittori francesi cioè come in Alain Lombelier è la trave che deve diventare protagonista non la donna qui grazie a questa induttatrice straordinaria l'atmosfera di quotidianità realistica che in cent'anni di solitudine permea ogni riga sia resa come un ermeneuta grandissimo può fare stessa cosa ancora lo stesso libro ancora lo stesso autore con quella libinarità strana travolta dai cent'anni dalla fiaba e dall'idea che fra un po' fucileranno il colonnello Arrueliano Buendia sono un maniaco dei cent'anni e quindi mi scappa di citare a memoria Erri De Luca con l'idea della quotidianità di lettura nell'Italia sua contemporanea una diligenza operativa un bianco sospetto una figura gialla sulla obliquità del terrassino sul lato destro un insieme come questa autrice mirabile sa fare di poesia di sogno di realismo di dettaglio di racconto e anche di dosatissimo colorismo pittorico perché tutta la parte dove si orchestrano gli azzurri e i grigi sa di chiaristi italiani degli anni trenta nel caso di questa disegnatrice quando si cita una fonte è sempre vera nel senso che è coltissima sperimenta ricerca studia e così via e questo è veramente più bello Magda Zabo perché sa questa ha questo sentore di mitte l'Europa attraverso il fatto che si vede in piena evidenza la serratura e poi lo scomparto nero e poi il design della sedia naturalmente che richiama tutta una dimensione made the cult che abbiamo visto in teatro al cinema nel fumetto è difficile anche perché la splendida visione del Giardino Liberty che richiama ovviamente da Klimta e Gonzil è un qualche cosa che si intromette a dire quanto sia appunto complicato questo mondo così pienamente affrontato da Cinzia Chigliano questa è una delle nostre autrici Katrin Manfield entreremo nei suoi libri nei suoi testi qui ha voluto mettere in evidenza una costante che permea tutta l'opera di questa geniale narratrice solitaria nascosta ovvero che non sai mai quando leggi un brano anche piccolo di Katrin Manfield da dove derivi quella sottile ansia perché lei sta solo descrivendo un uovo perché lei sta solo indicando che prendono il tè lei sta solo mettendo in evidenza una donna che cucce e qui si sono incontrati due straordinari talenti perché Katrin Manfield poco capita un po' troppo dimenticata è la grande narratrice del piccolo del minimo si trasforma un sussurro in qualche cosa di apocalittico come è anche qui dove c'è un poco di quel demonismo che tra una tassa di tè e l'altra Katrin sa anche mettere in evidenza e questo invece il suo mondo vero ritorna in tantissimi racconti e questa struggente finitudine attraverso il raguaglio sulla quotidianità cosa faccio se metto in evidenza delle casucce un poco di spiaggia un vestito estivo un poco di maretta e metto in evidenza il tragico vivere quotidiano proprio la Manfield toccata dalla magia di un'illustratrice vera come ce ne sono stati pochissimi come ce n'è pochissimi e Altan l'ha voluto fare così come se fosse appunto un eterno bambino che ragguaglia i suoi albi tra aerei giochi mondi ipermondi un'altra interpretazione veramente straordinaria questo è un suo fumetto come verrebbe da dire soprattutto da togliersi il cappello perché è Nora di Ibsen ma ci sono molte nore in questo suo fumetto bellissimo edito dalle femministe ed edizioni delle donne presero posizione a suo favore e quindi ci mettiamo il mondo della carrozza la tragica evidenza del primo piano con il cappello una citazione Lautrec che ci sta benissimo in alto a sinistra una citazione del nostro Costantini che ci sta benissimo a destra una citazione piccassiana al centro perché tutte queste citazioni perché Nora sente il peso dell'Europa sembra che l'abbia caricata di tutti i contenuti che ha in mente lei di tutte le sofferenze le voglie di narrare al femminile che purtroppo è sempre un po' anche soffrire e cominciamo con il suo racconto Solanz questo è tutto suo ed è un riassunto in certo senso spasmodico dolcissimo amarissimo penoso per certi spazi della sua estetica perché di estetica in Cinzia Chigliano bisogna parlare e anche della sua narratologia Solanz ha visto confluire tutte le possibilità narrative di questa grande narratrice e quando la vediamo agire sul fumetto beh nel caso mio di fumettologo fumettomane di collezionista e critico di storico del fumetto o rabbia perché lo spazio che doveva esserle assegnato avrebbe dovuto essere pari a quello dei grandissimi stranieri degli Stati Uniti in Argentina in Francia in Spagna in Belgio si sanno onorare questi talenti questo non è accaduto perché questo è il pieno novecento il novecento delle ansie delle guerre delle sofferenze il novecento che tanta montagna a partire da quella incantata di Mann vede raccontata vede esultare dalle pagine Solange cattura questi spazi e ancora questa dimensione di racconto tutto suo con responsabilità piena l'abbiamo anche in questa immagine dove con dei tratti nobilissimi dei contorni di una bellezza relativa all'arte italiana la sua eredità massima il rapporto del viso con gli scalini è qualcosa di stupendo e basterebbe guardare la cura anche quella fino allo spasmo del quadretto in alto Solange messa a confronto con l'epoca addirittura la particolare irripetibile caratteristica del soldato di fanteria francese c'è poco da fare se sei grande grande davvero rispetti la minimalità pensi davvero ad una quotidianità di racconto e piuttosto spendi tre giorni in più ma vai in biblioteca solo a vedere com'era la fanteria francese perché altrimenti gli metti la bustina italiana e io ho fatto una recensione negativa anche questo è un bel rimprovero perché l'editore è Casterman non è mica italiano e quindi abbiamo questo stupendo gruppo in un interno con l'idea di una narratività piena in mano a Cinzia Ghigliano il fumetto non credo che abbia bisogno di nessuna nobilitazione è grande e basta è importante perché l'eccellenza qualitativa che direi non è non è sevra anche di un colloghamento diretto con Benedetta Craveri perché un poco di non salans nelle pagine uno potrebbe anche mettercelo non succede mai come in questa stupenda pagina di fumetto gli altri fumettisti non contano niente loro che facciano anche delle cose di scarsa perissia ma Cinzia no non li segue e appunto Solange al massimo al meglio con una narratività piena sia dal punto di vista dell'abilità tecnica sia dal punto di vista dell'universo citazionista che qui spazia attraverso vari orienti e siamo al libro che abbiamo fatto insieme perché Quirico Filopanti è giustamente ricordato per tutti i meriti che ebbe dalla matematica alla grimensura dall'eroismo patriottico che lo condusse a combattere le guerre del risorgimento dalla forza con cui insegnò in cattedra all'università di Bologna un grandissimo personaggio di cui mi fu affidata la biografia e allora però posi condizioni che a disegnare le tavole che ornavano il mio testo fosse Cinzia Chigliano e manco a dirlo è stata fedele al suo impegno morale ha girato per Bologna per ritrovare il suo Quirico così come appariva davvero quando democratico del risorgimento Garibaldino camicia rossa per Celta faceva lezione in Piazza Maggiore perché lo ascoltassero non solo gli studenti ma anche gli operai la qualcosa mi è sempre stata raccontata dai vicini di casa di Via Orfeo e mi ha sempre commosso ho visto grandeggiare questa figura che qui è nel pieno della sua verità iconologica è come se lei l'avesse visto e fotografato e le lezioni erano di astronomia perché matematico agromono inventore di macchine fisico Filopanti era un po' tutto era la scienza in scienza ecoscienza naturalmente perché aveva questo atteggiamento Garibaldino questo atteggiamento da democratico sincero del risorgimento e qui lo vediamo come meglio non potremmo vederlo far lezione di astronomia in piazza nella nostra piazza con un ragguaglio storico tutto fornito da Cinzia grazie per la vostra attenzione grazie 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 grazie